A Padova mancano vigili del fuoco, una denuncia da tempo al centro di proteste, scioperi e incontri con rappresentanti politici e autorità istituzionali da parte delle unità sindacali di base, a cui ora si aggiunge un'importante presa di posizione, una nota inviata dal dirigente del comando Patavino al capo del corpo, una nota nella quale si punta il dito sulle difficoltà operative dei vigili del fuoco di Padova dovute alla carenza di 40 unità fra operativi, amministrativi e tecnici. La nota è stata resa pubblica dalle stesse USB secondo le quali finalmente il comando di Padova ha aperto gli occhi, dopo gli sciopri e le manifestazioni, commentano i sindacati, anche il dirigente chiede aiuto. Nella nota del comandante si legge anche, aggiungono i sindacati, come a questa carenza di uomini si sommino assenze prolungate e soprattutto la non assegnazione da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del personale per il distaccamento di Abano Terme, quantificata in 30 unità. Ad oggi si garantisce il servizio con il solo personale assegnato alla sede centrale.